Grazie al loro talento musicale hanno vinto una borsa di studio 5 giorni a Bruxelles dove avranno la possibilità di visitare le sedi delle principali istituzioni europee. Cinque studenti del Conservatorio di Musica San Pietro a Maiella di Napoli sono stati scelti dall'AREC, l'associazione degli ex consiglieri regionali della Campania per la nona edizione del premio omonimo. A ricevere il riconoscimento durante una cerimonia nella sala Nassiria del Consiglio regionale della Campania con il presidente Gennaro Oliviero per le categorie Canto, Alessia Rosa d'Abruzzo e Mary Katrin Wakeman per gli strumentisti Rita Barra, Lorenzo Esposito e come studente distintosi particolarmente vincitore del premio speciale intitolato a Giorgio Cutolo, Francesco Attore. Gli studenti erano accompagnati dal vice direttore del Conservatorio Carlo Mormile. È un'iniziativa che noi accogliamo con grande favore perché è praticamente un'iniziativa promozionale per i nostri studenti perché poi l'AREC quando a fine premio organizza la sua manifestazione fa un filo diretto praticamente fra i nostri studenti e gli studenti in cui sono quelli dei licei, delle scuole a indirizzo. Per l'AREC il presidente e il vice Carmine Iodice e Francesco Bianco. Facciamo anche delle conferenze nelle scuole sulla materia della Costituzione. Siamo quindi totalmente impegnati a sostegno e a fiancheggiamento della nostra gioventù. La nostra missione è quella di far conoscere le istituzioni, essendo noi ex consiglieri regionali, portare a conoscenza quelle le attività istituzionali dei consigli regionali e quindi delle regioni.